benvenuti amici a questo nuovo appuntamento con ced live nostro consueto contributo settimanale sul mondo dei certificati e sul mondo dei mercati finanziari questa settimana abbiamo davvero avuto tanta carne al fuoco è successo davvero di tutto e lo vedremo nel servizio che vi sto per mandare settimana che si chiude con un saldo leggermente negativo con gli indici europei che accusano flessioni comprese tra lo 0,5 e l'1 per cento meglio come sempre l'america che staziona intorno alla parità con lo Standard & Poor's 500 che attualmente scambia il territorio leggermente positivo diversi temi in campo in questa ottava iniziata con il taglio dei tassi in Cina e i minimi storici dell'indice di fiducia dei consumatori tedeschi e il tonfo del greggio crolla la fiducia dei consumatori tedeschi a maggio lo segnala l'indice GFK che nella rilevazione diffusa pochi giorni fa ha segnato una netta flessione attestandosi a meno 23,4 punti dai 2,3 segnati ad aprile si tratta del ribasso più consistente ma rilevato dall'abbio della rilevazione del 1980 che porta l'indice ad un minimo storico che supera la depressione della grande crisi finanziaria del 2009 i mercati i mercati pagano odazio sul tonfo del greggio con la scadenza di maggio andata addirittura in territorio negativo fattori strutturali dettati dalle eccessive scorte dal drastico calo dei consumi derivanti dalla pandemia del covid-19 ma anche fattori di natura tecnica dei fondi passivi in fase di rollover sul fronte europeo accettato il pacchetto dell'eurogruppo da 500 miliardi il recovery fund passa in studio ora la commissione europea lo sped tra btp decennale il bund tedesco si attesta a quota 241 punti base praticamente siamo sui massimi da un anno tensione sui mercati che rimane invariata rispetto alla scorsa ottava con l'indice di volatilità del mercato americano vix e quello europeo bistox che rimangono su livelli di circa il 40 per cento ancora lettera sul comparto delle avioline guardando ai principali sottostanti dei certificati di investimento tra i flop della settimana troviamo ancora il comparto con deutsche lufthansa united airlines american airlines che perdono tra il 14 e il 7 per cento del proprio valore flop di questa settimana oltre al vti il titolo tedesco hertz a meno ventuno meno ventitré virgola cinquantacinque per cento in odore di chapter eleven tra i top performance della settimana svetta il recupero del titolo solo al world capace di incrementare il proprio valore di ben trentacinque punti percentuali la buona la buona trimestrale fa correre il titolo snapchat più ventidue per cento bene tutto il comparto aurifero con new gold royal gold e dorado gold in rialzo di circa il dieci per cento tra le novità dell'ultima settimana ben 73 nuovi strike votati sul secondario di cui quasi la quasi totalità capitale protetto condizionato con premi periodici eccoci tornati allora settimana davvero importante e questo 2020 ci ha insegnato che cose nuove sui mercati finanziari sono all'ordine del giorno abbiamo visto questa settimana il driver è stato quasi totalmente eh concentrato con eh il tonfo del greggio eh vediamo come cosa è successo e come si sono comportati alcuni strumenti finanziari che ci consentono di investire sul greggio e non lo farò da solo e questa settimana avrò l'onore e il piacere di di avere nuovamente con me Pierpaolo scandurra ovviamente ceo di certificati e derivati ciao Pierpaolo ciao Giovanni buonasera a tutti allora Pierpaolo eh cosa è successo con con il greggio che sarà anche eh il nostro approfondamenti approfondimento sul certificate journal di questa settimana dove ovviamente eh abbiamo aperto eh l'articolo parlando nessuno ci pagherà mai per fare il pieno di benzina infatti ad andare negativo non è il greggio di per sé ma eh è è stata un un fattore eh come ho detto di natura sia tecnica che strutturale ecco Pierpaolo vediamo insieme e raccontaci anche tu con cosa cosa è realmente successo cosa è andato in negativo e eh e poi vediamo anche qualche prodotto che abbiamo avuto modo come ufficio studi eh di analizzare per la replica del sottostante Sì Giovanni allora quanto è accaduto questa settimana ehm l'ennesima l'ennesima prima volta nella storia o comunque il nuovo record eh negativo chiaramente che si è vissuto nella storia recente in particolare di questo duemilaventi abbiamo visto per la prima volta un VIX salito all'ottantacinque per cento in prossimità insomma in corrispondenza del crollo dei mercati di metà marzo e per la prima volta nella storia abbiamo visto un petrolio scendere addirittura in negativo qualcuno in particolare lo aveva qualche analista l'aveva appaventato questo rischio però si si pensava che non si arrivasse a tanto nella realtà questo è avvenuto anche se c'è da dire che eh è solo parzialmente vero che il petrolio è andato in negativo perché quello che è sceso al di sotto dello zero è fondamentalmente il contratto in scadenza maggio probabilmente è utile ricordare e lo abbiamo fatto anche eh sul sul nostro approfondimento sul canale telegram è utile ricordare che quando si investe sul petrolio non lo si fa con un indice perenne o con un'azione quindi si va direttamente ad investire sul contratto future quindi su un derivato questi contratti hanno tipicamente una scadenza e in particolare per quello che riguarda il petrolio hanno una scadenza mensile cosa vuol dire ecco come stai facendo giustamente vedere che in questo momento ad esempio il contratto sul petrolio WTI quindi quello eh americano mh ha diversi ha diverse scadenze e la la prima utile quella che andrà in scadenza prossima al diciannove di maggio è il contratto di giugno quindi in questo momento gli operatori che stanno lavorando su questa scadenza stanno scambiando il petrolio a sedici virgola trentotto dollari successivamente la scadenza di luglio che è quella che andrà in punto in chiusura il mese successivo già si scambia a ventuno dollari cioè vuol dire che ogni mese il prezzo del petrolio è diverso ovvero il prezzo a cui si è disposto a con si è disposti a consegnare il petrolio ma naturalmente non noi che facciamo il pieno di benzina come è giustamente detto ma chi produce e chi si copre dei rischi di oscillazione lo fa sempre su prezzi diversi perché ad esempio di entra in gioco la stagionalità e le le riserve quindi la produzione quanta domanda c'è questo fa sì quindi che a seconda del contratto su cui si sta lavorando ci siano delle escursioni più o meno importanti ora cosa è successo sul contratto di maggio che è andato in scadenza esattamente tre giorni fa e quattro giorni fa è successo che praticamente ci fosse a causa del lockdown mondiale quindi di una bassa domanda un eccesso di offerta cioè c'erano ancora molte posizioni aperte su quel contratto c'era poca domanda perché non c'è richiesta in questo momento pertanto l'eccesso l'eccesso di offerta ha portato il prezzo a scendere talmente tanto che si è arrivati al paradosso che pur di dar via il petrolio e di non stoccarlo di non conservarlo all'interno dei depositi che sono ormai al limite della capienza in particolare in oklahoma i produttori hanno accettato di regalarlo addirittura di pagarlo questo è stato un po' il paradosso che si è verificato sulla scadenza di maggio tuttavia la scadenza di maggio era un contratto future che ha riguardato da vicino per fortuna solamente chi in quel momento era su quella scadenza cioè gli strumenti di investimento principali che si utilizzano che sono ad esempio gli etc o i certificati legati alla materia prima non la stavano lavorando per fortuna in quei giorni sul contratto di maggio avevano già fatto quello che si chiama il rollover cioè si erano spostati sulle scadenze successive questo perché tipicamente anche gli etc quelli più famosi ad esempio uno dei più noti ed utilizzati è il cosiddetto crude ed è un etc della wisdom tree che lavora proprio sulle scadenze bimestrali cioè lavora ogni due mesi sulla scadenza successiva ecco per fortuna nonostante purtroppo il calo sia stato importante non era legato alla scadenza di maggio si è parlato molto anche di un etf americano il cosiddetto uso che ha in questo momento una percentuale di esposizione sul mercato del wti di circa il 25 per cento e si è parlato del fatto che questo fondo praticamente questo etf avesse importanti posizioni in essere anche sulla scadenza di maggio nella realtà non era esattamente così poi o almeno non è stato lui a contribuire in maniera così determinante al crollo al di sotto dello zero però certamente ha contribuito perché c'erano delle posizioni molto importanti detto questo Giovanni ricordiamo anche che chi investe sulla materia prima quindi sul petrolio attraverso gli etc o comunque altri strumenti non può in alcun modo prescindere dal rollover e soprattutto non può evitare questa situazione di contango ecco questa parola contango sta ad esprimere proprio la differenza di prezzo che c'è tra una scadenza e l'altra quando il contratto successivo quello futuro ha un prezzo più alto rispetto a quello in scadenza di conseguenza quando arriva la scadenza di un contratto cosa succede si chiude maggio per entrare su giugno ma dato che giugno costa di più questo sovrapperso si paga quindi lo paga chi fa il rollover lo paga la società che gestisce l'indice sottostante all'etc e quindi inevitabilmente lo paga anche l'investitore quindi spesso ci viene chiesto come posso investire sul petrolio senza essere soggetto al rollover o al contango non è possibile perché fondamentalmente il petrolio si muove sulle materie prima e co contratto future scadenza mensile esatto pierpaolo hai fatto un quadro assolutamente perfetto del della situazione anche perché in questo caso lo voglio rimarcare perché magari dopo vediamo anche un attimino il nostro speciale che abbiamo pubblicato sul nostro canale telegram che ho messo qui sotto la barra dove è possibile iscriversi al canale è proprio questo cioè oltre a seguire la dinamica del prezzo del sottostante che ovviamente è crollato per tutti ma molto di più per la scadenza generica no il cosiddetto front month ha inciso in modo particolare anche le modalità di rollover perché non tutti gli etici che seguono per l'appunto il vti rollano scusate il gergo tecnico nella stessa maniera quindi abbiamo valutato e visto insieme come quegli etici che aveva anche avevano una possibilità di essere un po più elastici per spostarsi su scadenze senza determinati vincoli territori vincoli temporali come ce l'hanno quegli etici che seguono i rollover dell'indice di commodity di bloomberg hanno potuto registrare una performance una performance migliore io quindi qui volevo farvi vedere innanzitutto cosa è successo con con due etici della wisdom tree quelli che hai nominato tu non solo sul crude ma anche sul su un secondo wisdom tree che in realtà ha un una modalità di rollover differente quindi mentre il crude ha segue segue di fatto il rollover dell'indice di bloomberg che è di due mesi di due mensilità in due mensilità l'altro etici aveva una aveva la possibilità di rollare in maniera in maniera differente ecco spiegato le differenti le differenti performance che hanno registrato ecco giovanni giovanni scusami spieghiamo bene cosa vuol dire in maniera differente cioè tu puoi fare il rollover secondo determinate regole imposte come dicevi prima dagli indici calcolati da bloomberg che è l'indice sottostante al wisdom tree crude quello che si identifica come crude che fa il rollover sulle due scadenze successive di conseguenza quando avviene il passaggio da un contratto all'altro viene fatto in quei giorni e di conseguenza se quel contratto in quel momento ha un contango particolarmente elevato non si può purtroppo prescindere da questa differenza viceversa esiste un altro etici che permette di fare un rollover su una scadenza ancora successiva cioè andare su quelle un po' più lontane andare su scadenze un po' più lontane in questa fase consente di avere un minore contango cioè un costo inferiore ovvero quello dei primi due mesi lo prendi lo stesso però successivamente riesci a avere un impatto inferiore per quello che riguarda ad esempio la discesa in buona sostanza il contratto di maggio è andato in negativo quello di giugno ha toccato un minimo di sette dollari nel corso della giornata di successiva alla scadenza del contratto di maggio ma le scadenze di luglio o agosto settembre non sono mai scese sotto la soglia dei 15 o 20 dollari questo proprio perché comunque l'incremento di domani di offerta ha inciso in particolare sulle scadenze a breve giovanni vorrei concludere sempre proprio sullo speciale che abbiamo realizzato tra l'altro voglio premettere lo abbiamo pubblicato gratuitamente sul canale telegram ma era stata una richiesta fatta da diversi investitori che seguono i nostri servizi dell'ufficio studi quindi seguono hanno comunque un contratto di collaborazione con il nostro ufficio studi però abbiamo deciso poi di omaggiarlo direttamente sul canale telegram perché la richiesta era veramente alta soprattutto per cercare di capire cosa stesse accadendo ecco e abbiamo quindi offerto su questo speciale una serie di idee a partire a partire dalla diciamo la spiegazione dell'etc crude e degli altri apro e chiudo una parentesi ecco molte persone ci hanno chiesto ma quindi cosa fare adesso su questi etc allora chi ce l'ha in portafoglio in questo momento diciamo che ormai il danno è fatto molto probabilmente quindi venderlo oggi forse non è più tutto via tutto così necessario entrare oggi potrebbe forse non essere ancora il momento perché c'è troppa tensione quindi forse è meglio far calmare un po un po le acque ecco su questo tema però successivamente abbiamo anche proposto un certificato che in pochi conoscono probabilmente è un certificato a capitale non protetto un cosiddetto tracker benchmark che quindi a differenza degli altri certificati non ha protezione del capitale non paga cedole non fa nulla ma si caratterizza per un per avere un sottostante quindi un indice che si sposta quindi si può trasformare nel corso del tempo in particolare quando la curva del future è in contango come in questo momento il certificato investe su un indice composto da titoli azionari che operano nel settore del petrolio pertanto purtroppo può scendere se il mercato scende ma quantomeno non prende quelle sberle causate dal contango che abbiamo sui contratti future se la curva invece si trasforma in backwardation il che vuol dire che i contratti successivi hanno un prezzo inferiore a quelli in scadenza e allora a quel punto l'indice va ad investire sui contratti future quindi è un indice ottimizzato perché si sposta nel corso del tempo e questo ha permesso a questo certificato su un orizzonte temporale dell'ultimo mese di perdere molto meno rispetto o anche nell'ultimo anno di perdere molto meno rispetto agli etc ricordiamo che il certificato tra l'altro esattamente come l'etc è soggetto al rischio emittente e adesso ed ha la fiscalità efficiente quindi in questo senso anche il prendere in considerazione uno o l'altro può dipendere da una serie di fattori ma almeno su questi due temi non ci sarebbero differenze bene si aggiungo solo una cosa e poi ti lascio sottolineo come come questo tracker di montobel che abbiamo messo sotto osservazione proprio perché lo potete vedere dalle performance è riuscito a contenere greggiamente la discesa del greggio pensate a gennaio era posizionato sul contratto maggio del crude oil poi dato che la curva da lì a poco ha cambiato inclinazione quindi da una situazione di backwardation è andata in una situazione di contango cioè col contratto successivo che costava di più del contratto di prossima scadenza le modalità di funzionamento del prodotto hanno fatto sì che si passasse da una replica passiva e fisica del sottostante a una replica per tramite di un basket di titoli del petrolio questo proprio per minimizzare il fattore proprio di pagare uno spread sul contango e questo ha avuto un effetto assolutamente benefico perché come potete vedere ad esempio sulla rilevazione fatta qualche giorno fa lo vedete qui le performance annualizzate mentre gli etc erano in pesante flessione perché normalizzato 21 per cento vuol dire che hanno perso sostanzialmente il 79 per cento il il tracker di montobel era in flessione del di circa il 50 per cento quindi ha tenuto egregiamente questa questa forte discesa solamente della del sottostante perché i sottostanti azionari del del comparto del greggio hanno fatto sicuramente sicuramente meglio quindi adesso essendoci ancora una situazione di contango come abbiamo visto dal grafico bloomberg è ancora posizionata sui titoli sui titoli petroliferi tra i più capitalizzati del mondo prevalentemente titoli petroliferi americani ok per paolo io ti lascio penso che abbiamo fatto ecco un un focus eh abbastanza completo di quel che riguarda il tema sicuramente della settimana eh abbiamo visto sia etc replica passiva sia un prodotto ibrido che eh buono vuoi certifiche di investimento danno la possibilità di avere di creare asimmetrie e flessibilità e anche in questa occasione ne abbiamo visto eh ne abbiamo visto gli effetti assolutamente benefici per per gli investitori e niente io ti saluto grazie della partecipazione grazie a te Giovanni e buonasera da tutti ciao per paolo allora noi eh anche oggi abbiamo concluso il nostro il nostro spazio con un limite di tempo che ci siamo imposti per non rendere troppo eh pesante la questo contributo video eh sperando che il duemilaventi non ci faccia vivere nuove nuove eh novità scusate il termine ma così ci ha abituato quest'anno eh gli effetti della del mess sono sostanzialmente eh risultati neutri eh sui mercati anche perché eh insomma le risultanze dell'Eurogruppo fortunatamente erano già state scontate noi ci vediamo la settimana prossima con ci sarà con me un nuovo eh un nuovo una nuova spalla eh un analista di certificati e derivati che vedrà con me il tema della settimana eh sperando che vi sia piaciuto questo contributo lasciate un commento se volete eh se volete approfondire un tema specifico cercheremo di accontentarti con questo vi lascio buona settimana e buon trading a tutti